Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1 dove troviamo coda per traffico provenendo da Roma verso Pisa all'altezza del Bivio con la 11. Direzione Roma, coda ancora una volta per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 resta coda verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. In A12 operazioni invernali tra Pisa Centro e rilasciamento con l'Aurelia nelle due direzioni. Per il traffico urbano di Firenze tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura notturna in viale Fratelli Rosselli e via Berio e lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in via Foscolo e via della Sala. Buon verso in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.